Nel video di oggi vediamo come utilizzare il ciclo FOREACH anche in CC++. Se non sei ancora iscritto al mio canale ti chiedo di farlo, a te non costa nulla e mi dai una mano a crescere. Iniziamo subito. Siamo abituati a utilizzare il ciclo FOREACH nella forma classica. Creiamo un array int n con 5 elementi, mettiamo 5 numeri qui dentro, 1, 2, 3, 4, 5. Come possiamo stamparli? Il metodo classico è questo, FOREINT I uguale 0, I minore di 5, I più più. E poi qui metteremo, avendo già inizializzato la seriale, per stampare i valori faremo serial.print, mettiamo n di i, punto e virgola. Stampiamo un altro carattere vuoto, mettiamo uno spazio tra uno e l'altro. E poi al termine di questo FOREACH stamperemo un AK, slash n. Questo è chiaro ed è quello che utilizziamo da sempre. È possibile però nel ciclo SPLAS usare un'altra forma, che è quella del FOREACH. Come possiamo implementarlo? Usiamo sempre l'array n, inizio a scrivere FORE. Tra le due tonde vado a mettere l'elemento in cui andrò a mettere quello che tiro fuori dall'array. Essendo un array di interi, qui mi creo un int l, sta per elemento. Poi metto due punti e quindi passo l'array. Cioè sto dicendo, prendi l'array n, estrai gli elementi uno per volta, gestisci tu il contatore, me li metti dentro e l. A questo punto posso andare a stamparli, semplicemente richiamando l, che è un intero, con quello che viene estratto dal nostro array. Mettiamo poi anche l'ACAPO. Ok, proviamo a eseguirlo. Ecco qua i due FOR in azione. Usate quello che vi conviene di più. Spero di avervi dato uno strumento in più per il vostro lavoro di programmatori o beast maker, quello che volete. La possibilità di usare il ciclo FOREH non è così evidente, perché nel codice che si trova in giro in rete viene usato raramente. Bene, ora sapete che si può farlo e sapete anche come. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo presto. Ciao!